le responsabilità del problema di essa. C'è una voglia di protagonismo in voi, che è racchiusa dall'espressione futuro, che è una parola positiva e molto bella. Io ho avuto da molti di voi, anche nella mutata condizione politica, perché la fluidità dei cambiamenti è rapida, nella riespedenza politica, anche quella che mi ha visto eletto sindaco di Catania al primo turno, di sostegno leale e incondizionato, fatto sempre di proposizioni positive di molti degli amici che sono in questa sala. E voglio ringraziarvi di cuore.